Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Come molte celebrità, Engin Akiurek ha chiesto aiuto attraverso i social media. Terremoto di magnitudo 7.7 a Karamamara su una triste notizia arriva da Adana Urfa. Malattia e di Yarbakir. Engin Akiurek ha anche condiviso vari post dopo il terremoto. Questo. Ricevuta la triste notizia, la famosa attrice ha detto, mio Dio, aiutaci, stiamo morendo. Un terremoto di magnitudo 7,7 si è verificato nel distretto Pazark di Karamamaras. Il terremoto è stato avvertito in molte città, soprattutto Malattia, Gaziantep, di Yarbakir. Mentre le scosse di assestamento continuavano nella regione, Engin Akiurek ha condiviso molto. Engin Akiurek sui social media ha dichiarato, ci sono molti edifici distrutti. E le richieste di aiuto dal basso sono condivise. Dio ci aiuti. Noi. Devastato. Gokbakar, che ha visto l'impatto e la notizia del terremoto, ha detto, purtroppo. Questo terremoto è molto forte e ci sono informazioni secondo cui più di 100 edifici sono stati distrutti. Malattia. Ci sono notizie simili a Urfa, Adana, Antepen e le province circostanti. Se questi. Le province sono in questa situazione, Karamamaras non mi viene in mente. Dio, è così triste, ha detto. Il famoso nome in seguito ha condiviso la tempistica del terremoto e ha detto, centrato sul terremoto. Così è stato registrato quanto accaduto a Karamamaras in un negozio di Gaziantep. Ci vuole un minuto e mezzo, e. Molto serio. Questa immagine, purtroppo, è un presagio di quale sarà una grande distruzione. Disastro. Spero che passi con la minima perdita. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e. Non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.